Stamattina mi vado a fare un voletto, vado a fare il mio primo volo con il paracarute e il primo si fa in compagnia, si fa in due. Sto quasi a Fano dove c'è lo skydive dove farò questa mia prima esperienza di volo libero come gli uccelli del cielo. Rorte, 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 Rorte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.